Ed ora, la prossima canzone è considerata un classico della disco music. Ha vinto il multidisco di platino e il premio Grammy Award come migliore canzone disco. È utilizzata in numerose pellicole, tra cui Man in Black, che oggi ricordiamo e riviviamo. E vi presento subito, signore e signori, Francesca Batocchi in I Will Survive. Grazie. 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 Grazie.